Sapete che ogni tanto c'è semena dentro i sbogliatori, no? Non siamo come l'Italia, che andiamo con la Svezia e ci fanno pure menà. Oltre che è una squadra dei profughi, ci siamo fatti anche menà e noi stiamo urlando a casa. Una volta l'Italia menava e vinceva, adesso ci menano e piangiamo. E' che la differenza tra il carcio italiano? A portare tutti i stranieri in Italia è successo questo, che non c'è più un italiano che mena. Andiamo in Svezia e ci menano. Siamo diventati tutti pariolini. E il carcio italiano è finito, pariolini. Usciamo anche da sto mondiale, per paura. Siamo in Svezia e abbiamo avuto paura. Non si può giocare con la paura. Se io vedo la mia squadra che gioca con la paura, io me ne vado e ci metto un altro più coraggioso. Perché può darsi che io gli ho trasmesso paura. Ma veramente, abbiamo perso con chi io? Oh, stiamo andando fuori dal mondiale? Perdiamo tutti, eh? Perdete voi giornalisti? Perdiamo noi detti ai lavori? Perde l'Italia? Ci dobbiamo svegliare. Dobbiamo cambiare le regole. Le primavere sono fatte tutte da stranieri. Basta! E il carcio è fatto agli italiani. Questo è il campionato italiano. Se no no, fa il campionato europeo. È il mondiale. E qui ogni mese nasce uno. Oriundo, mettiamo dentro. Ma andassero a più agli italiani nei campionati di Serie D e Serie C. Dategli l'opportunità. Vedete quelli come sono. Se noi mettiamo una squadra di Lega Pro contro la Svezia, vincevamo. Vincevamo perché la Svezia va in una squadra di Lega Pro. Di Lega Pro. Per la paura. Quando c'è paura che succede? Che te fai? Autocop. Quando c'hai paura ti fai autocop. Quando giochi con la paura? Senza di ramporta? Ma questi mo' ci vanno sta fino a lunedì? Con sto pensiero che uscimo fuori dal mondiale. Ma è una vergogna. È una vergogna. Gentile. Oh, Marchi Maradona. E Maradona usciva con la maglietta rotta. Oh, Marchi Zico. E Zico usciva con la maglietta rotta. E oggi uscimo con il naso rotto noi. Bellucci. Come sai? Bonucci. Naso rotto. Ma non dov'è sapere che in Tersino vi ha i botti da un attaccante? Italiano poi. Con lo svedese. Io ai tempi che ero ragazzina a Svezza facciamo 5-0, 6-0, 7-0, 8-0. Ma eravamo i nazionali che c'era Causio, Bruno Conti, Arto Belli. Ma sono italiani o sono oriundi? Ma andiamo a prendere il giudato in Serie C, in Serie B. Non sai quanti ce ne sono più bravi di quelli che stanno in Serie A? Oriundi. Famola finita. Siamo italiani. Orgoglio italiano. 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 Orgoglio italiano.